Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedo pazze di uno che mi rendono faticosa alla salire. Non preoccuparti, sarò io adesso a guidare i tuoi passi. Guarda questo posto, non è meraviglioso. È incantevole. Qua sento ridursi la distanza che ho fatto. Mi sembra quasi di toccarlo. E' da tanto che il Signore ti ha scelto come Sua prediletta. Adesso è il momento di andare. Ma perché ha scelto? Il Signore risponde soltanto a chi prego. Ma io mi sono detto a chi prego. Rita, è tempo che tu percora la strada che ti separa da Don Pei. Ma è già tardi. Le porte saranno chiuse. Userai alle porte del confetto? Se busserò non mi apriranno. Che cosa temi? La mia consacrazione mi è stata già negata per poco. Mi ritireranno. Non temerai. Questa volta nessuno ti bloccherà la strada. Va. La mia consacrazione mi è stata già molto molto interessata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.